Buona lì! Eccoci al bivacco argentino, poco sopra la Valsugana, che è lì, là in fondo si vede poco, c'è anche la Vigolana, là c'è un tavolo, entriamo qua un mega tavolone, sei letti per dormire, sono anche due cuscini, là sopra, e poi qui abbiamo la stufa, qui sopra non c'è legno, anche se lì fuori c'è un mucchio di legno, non so chi l'abbia portata, fornello e bombola, signore e signori, c'è tutto qua, manca niente a lavare, stoviglie, la moca, sempre imperdibile la moca, ecco ecco, vediamo qua dentro cosa abbiamo, ha un po' di chicche bene.